benvenuti a un nuovo appuntamento con il lunedì di mixer e l'attualità del fuoricasa quest'oggi parleremo di un simbolo del made in italy il vino cominciamo con una domanda quanto vale il mercato del vino mondiale vi lasciamo qualche secondo per provare a formulare la vostra risposta aggiungendo però un consiglio esagerate perché la cifra è davvero impressionante il valore del consumo mondiale di vino nel 2022 è stimato in circa 292 miliardi di euro e se vi sembra tanto sappiate che ancora non siamo tornati sui livelli del pre pandemia i consumi dello scorso anno sono infatti inferiori del 2,8 per cento rispetto a quelli del 2019 una soglia che riconquisteremo quest'anno considerate le prospettive positive del mercato che a livello globale dovrebbe crescere del 4,1 per cento fino al 2026 i dati provengono da una recente ricerca realizzata dalla società di consulenza pwc per gruppo meregalli azienda di distribuzione di vino e distillati uno studio che consente di cogliere appieno il valore economico del vino per esempio gli stati uniti sono il paese che ne consuma di più al mondo per un totale di oltre 47 miliardi di euro mentre il secondo mercato mondiale per il vino è la cina con oltre 40 miliardi di euro di valore anche se nel conto fatto da pwc sono compresi oltre 16 miliardi di euro di vini prodotti senza uva cioè le bevande alcoliche tradizionali cinesi come il cosiddetto vino giallo ottenuto dalla fermentazione di cereali in particolare riso e miglio quanto all'italia il quinto paese al mondo e il secondo dell'unione europea alle spalle della francia con consumi di vino pari a 16,9 miliardi di euro destinati a salire immediatamente del 5,5 per cento tra il 2022 e il 2026 un trend molto interessante dunque peraltro anche noi possiamo vantare un importante primato l'italia è infatti il maggior produttore mondiale di vino con circa 50 milioni di ettolitri seguita dalla francia e dalla spagna quantità ma anche qualità i vini dopo rappresentano oltre il 45 per cento di questa produzione mentre quelli gp pesano per un altro 26 per cento oltre a produrre tanto vino l'italia ne importa per un valore superiore ai 400 milioni di euro e anche questo è un dato in crescita di bene il 20,3 per cento nel 2021 rispetto al 2019 ma quali sono le tendenze del vino nel fuori casa e qual è l'identikit dei consumatori è quello che scopriremo in un prossimo lunedì di mixer per ora non ci resta che ringraziarvi e augurarvi buona settimana